Negli studi di Stradamore arriva la stoccata definitiva. Adele Sanfilippo dice no. Umilia Pietro Arena davanti a tutti. Spettatori studio, spettatori a casa. Adele non ne può più. Anche solo vederlo le rega fastidio. Sì, l'ha amato, ma non ha firmato una cambiale a vita. Per Pietro è la fine. Si rende conto che neppure la televisione gli restituirà Adele. E si dice, cazzo, ma l'anno scorso a Regalbuto eravamo ancora insieme. Era un'altra cosa, un'altra storia. Non si rende conto che l'anno scorso a Regalbuto lui era la medesima persona impossibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.